Niente carcere per i giornalisti. Dopo le polemiche degli ultimi giorni il ministro della giustizia Orlando ha smorzato i toni, ha detto nessuna volontà di colpire la stampa ed è arrivata la proposta di modifica al testo a firma del PD che esclude appunto il carcere. Il PD dunque ha presentato questo emendamento che esclude la ponibilità per i giornalisti che nell'ambito del diritto di cronaca utilizzano conversazioni registrate inascosto, esclusa anche la ponibilità per registrazioni utilizzate in processi penali e amministrativi o per l'esercizio del diritto di difesa.